Ecco voi il modellino del Telefrigo, un frigo particolare perché dotato di un pannello trasparente e diviso in scomparti colorati. Più il cibo è vicino allo scomparto rosso, più la sua scadenza è vicina. Inoltre Telefrigo è dotato di un scanalizzatore che tramite il codice a barre ti segnerà in quale scomparto mettere i vari prodotti in base alla loro scadenza. Oltretutto il frigo è anche dotato di piccole telecamere poste in ogni scompartimento in modo che quando si va a fare la spesa si può vedere quali cibi stanno per scadere, quali mancano o quali ci sono. Quando la scadenza si avvicina dalle telecamere poste nei vari scomparti vi arriverà una notifica sul cellulare la quale, se ignorata, ogni giorno sarà sempre più insistente. Mai più sprechi, con telefrigo! Ogni anno circa un terzo del cibo pari a 1,3 miliardi di tonnellate finisce nella spazzatura. Noi abbiamo pensato di risolvere questo problema, almeno in parte, e a togliere un grande fastidio, quello di decidere cosa cucinare. Aiutaci a sostenere la nostra nuova app, Ricibando. Pochi passi per azzerare lo spreco. Primo passo, Ricibando scannerizza il codice a barre del cibo e ne memorizza la scadenza. Secondo passo, vi invia una notifica avvisandovi di cibi prossimi alla scadenza. Terzo passo, vi propone una ricetta con i cibi che stanno per scadere. Fai una donazione per cambiare vita, Ricibando l'app che azzera lo spreco. Signore e signori, oggi vi presenterò il mai spreco, un frigorifero dotato di un display che vi permetterà di non sprecare mai più il cibo. Il display verrà posizionato proprio qui, in alto a destra. Nella pagina iniziale verrà chiesto di inserire il numero dei componenti del nucleo familiare. Nella seconda pagina verrà fatta una lista della spesa, con cibi solo salutari e di stagione. Inoltre questa lista sarà collegata al cellulare. Nella terza pagina, invece, verranno elencati i cibi prossimi alla scadenza, sotto una scritta rossa. Mai spreco, un nuovo modo per non sprecare più il cibo. Basta gli sprechi di cibi e bevande, da oggi in poi non avrete più problemi grazie all'innovazione di scatola densa, una scatola fatta apposta per il vostro frigo che vi farà rendere conto dei cibi a breve scadenza. Semplice e comoda, basta mettere i cibi che stanno per scadere dentro la scatola rossa e il gioco è fatto. Così, quando avrete un po' di fame, riuscirete a fare merenda con delle cose che stanno per scadere, senza sprecare. Comprarla a solo il prezzo di 9,90€ per la misura standard, fino ad arrivare ad un massimo di 13,90€ per la misura large. Insomma, un vero e proprio affare. Scatola densa, la scatola con i prodotti a breve scadenza. Che spesa? L'app che ti aiuta a fare la spesa è collegata con un sensore posto sul vetro del frigo, che scannerizza e rileva quantità e data di scadenza dei prodotti posti all'interno. Riceverai una notifica in tempo reale con una proposta di lista della spesa per tutta la settimana. Con che spesa? Avrei sempre il frigo pieno, ma senza strechi. Tutto bene, signora? Allora, non ce la faccio più più da mangiare le croste. Le proponiamo sbriciolone, un macchinario nuovo che l'ha alimentato quest'anno, che sbriciola le croste delle pizze e le fa diventare pancattato. Mmm, ottima idea! Grazie mille, così mia nonna potrà fare le polpette domani. Grazie a sbriciolone! E mi raccomando, non sbricate il cibo. Capito! Grazie a tutti!